È una curva della storia, è inutile che minimizziamo l'accordo tra Salvini e Di Maio, cambia il quadro politico. Se cambierà o meno la storia dipende se fanno un governo e se questo governo realizza le cose che promette. Quindi noi guardiamo con scetticismo a questo esperimento, però anche col rispetto che si deve a una fase nuova che dovrà essere giudicata giorno per giorno. E' uno sguardo sulla regione Abruzzo e quello che sta succedendo? La regione è in ostaggio del senatore presidente che se si decide a mollare la presa aiuta più velocemente questa terra a riavere il riferimento istituzionale nella pienezza dei poteri che deve avere per progettare il suo sviluppo.